Ecco, benvenuti, vedremo questa sera un'interessante discussione su come usare Blender perché Blender da un paio d'anni a questa parte ha questa caratteristica che si chiama Camera Tracking o Object Tracking che consente di fare delle elaborazioni video non indifferenti quindi visto che tra l'altro tutorial di questo tipo in italiano non esistono quasi almeno non ne ho visti in giro, ce ne sono però diversi in inglese e ho cercato di riportarvi in un modo semplice questa informazione quindi l'idea è quella, come vedete, io ho preso un filmato con il mio cellulare Android e in montagna qualche giorno fa faccio il play, vedete questo è un filmato in cui faccio vedere un certo panning dell'orizzonte e vedete, il filmato va avanti per una cinquantina di secondi ma adesso non è interessante vedere tutto quello che fa comunque la cosa importante di questo filmato, come vedete, è che si ha un panning cioè praticamente si vede delle cose che si muovono allora l'idea in questo caso potrebbe essere quella di inserire, fare dei fotomontaggi diciamo, quindi inserendo vicino a un punto notevole per esempio in cima a quest'albero gli ho inserito una specie di palla sopra e ho fatto praticamente questo quindi questa è l'introduzione, quindi cosa ho fatto ecco questa qua è l'animazione che ho fatto vedete che ho preso un pezzo dell'animazione e ci ho infilato una specie di pallina che vedete che segue fedelmente il movimento della telecamera cioè dell'Android e questo è un effetto che non è assolutamente niente male quindi questo è un oggetto sintetico tridimensionale costruito con Blender e che è stato riportato all'interno di una scena realistica quindi abbiamo fatto un fotoritocco amico da ridere un effetto speciale allora, quindi la struttura di questa lezione sarà divisa in varie fasi quindi vi farò vedere come prendere il filmato originale trasformarlo in un formato, una successione di frame quindi immagine PNG e questo sarà fatto con il Blender Video Editor che è una caratteristica che meriterebbe un intero corso a se stante poi una volta separate tutti i frame del nostro video nella seconda parte prenderemo il video lo metteremo in un Clip Editor e in questo Clip Editor faremo un tracking proprio di degli oggetti quindi faremo un tracking della cima di questo albero e dopodiché comporremo un oggetto virtuale un oggetto dimensionale che sarà una sfera e lo faremo collimare con il punto tracciato il punto tracciato che abbiamo preso nella parte immediatamente prima e faremo coincidere, quindi faremo un movimento uguale nell'ultima parte invece vedremo come comporre insieme l'animazione ottenuta da Blender insieme al filmato originale questo verrà fatto con una sessione di Node Editing che è interessantissimo vi farà vedere come ottenere questo filmato e quindi passiamo alle pavari parti eccoci nella prima parte in questa prima parte prenderemo il nostro spezzone video che abbiamo fatto prima e cercheremo di isolare soltanto la parte che ci interessa quindi per farlo andiamo possiamo tentare di farlo anche qua andiamo nella nostra Video Sequence Editor che è qua e che è raggiungibile però anche attraverso qui dove è scritto Video Editing allora qui in Video Editing la prima cosa da farsi è quella di prenderci add un movie e il movie lo prendiamo quello che abbiamo visto prima quindi Blender, Camera Tracking ed eccolo qua questo qui è il nostro video in formato mp4 preso dal nostro Android vedete che facendo l'add quindi vi ho fatto add movie ci ha inserito le due parti quindi la parte del sonoro questa che possiamo selezionare col tasto destro e quindi cancellare e poi di questa andiamo un po' a vedere quali sono le scene che ci interessano nel senso che ci vedete che passiamo ci vediamo una cosa e vediamo che noi la telecamera fa un po' di giri però vedete che partendo da qua da questo fotogramma comincia a fare un panning da destra verso sinistra cioè praticamente sto andando verso destra quindi prendiamo semplicemente questi fotogrammi qui la cosa interessante può essere quella di vedere non in secondi ma in frame così vediamo bene quali sono i frame che ci interessano ecco quando appare questo pino è al frame 108 e quindi qua praticamente ci scriviamo partiamo dal frame 108 e poi andiamo al frame in cui il pino esce di scena quindi più o meno qua e qui vediamo quindi allarghiamo qua e questo è il 298 quindi dal 108 al 298 ci conviene forse farlo leggermente più piccolo insomma giusto per diciamo fino a qua 250 che è poi quello ultimo quindi dal 108 al 250 noi è quello che vogliamo generare allora abbiamo detto nell'introduzione che noi vogliamo generare una sequenza di immagini prodotte a partire da questi frame quindi cosa facciamo? allora qui intanto ci procuriamo una nostra properties questa e andiamo a esplorare un po' come vogliamo generarlo allora vedete che la risoluzione adesso è a 720p ok la facciamo soltanto 720 la risoluzione è già alta risoluzione ma lo facciamo a 50% che viene un pochino più piccola scusate andiamo a 50% ok questo perché in questo modo abbiamo risparmiamo un po' di memoria perché vedremo che allora vedete che qui parte dal 108 e arriva al 250 fa una certa certa frequenza di oggetti e poi quando andiamo nell'output vediamo che ci genera un output in formato png e possiamo dire dove ce lo genera e ce lo genera lo facciamo sotto c blender e poi andiamo camera tracking che è qua e qui generiamo un nuovo directory che lo chiamiamo input2 giusto per chiarirci quindi qui tutte le le frame verranno salvati qua vedete allora per fargli generare tutta la nostra animazione è sufficiente a questo punto fare animation qua animation e vedremo che lui pian pianino si comporrà tutte le nostre immagini questo è leggermente lungo quindi riprenderemo quando avrà finito ok ok eccoci nella terza parte che ne abbiamo visto prima che abbiamo spezzato in tutte tutte le singole frame tutte le singole immaginine ora entriamo su blender ex novo e qui andiamo nella opzione che scegliamo anziché il video sequence editor che abbiamo usato prima usiamo il movie clip editor e nel movie clip editor ci apriamo e andiamo dove abbiamo salvato prima quindi camera tracking input2 qui basta selezionare uno solo dei dei clip facciamo open clip e come vedete sono arrivati è arrivato il filmato ora qui se facciamo alt a vedrete che verrà visto tutto il filmato che abbiamo preso quindi facciamo alt a e vedete che man mano che vengono riprese le immagini passo in viola la parte sinistra ok è finita qua alt a quindi vedete che dobbiamo semplicemente anche qua dirgli di finire alla 143 quindi dalla 1 alla 143 ok e a questo punto qui abbiamo il nostro quindi andiamo all'inizio e abbiamo il nostro film ora se per caso succede come a me che facendo il play non vi si playa è perché occorre avere il cursore qua e fare alt a da qua vedete cioè se il cursore è in questa finestra allora si riuscirà a vedere alt a poi qua potete fare ctrl shift freccia in giù per andare sulla prima frame ctrl shift freccia in su per andare sull'ultimo e poi ctrl freccia sinistra no ctrl no alt freccia sinistra ci si dovrebbe muovere di un frame per volta sulla sinistra comunque ci sono questi no comunque ci sono alcune cose che poi vedremo magari anche dopo ok comunque andiamo avanti la cosa importante adesso è riuscire a tracciare a fare il tracking di questo alberello quindi vedete che man mano ecco ci accertiamo che l'alberello sia praticamente sempre nella nostra immagine quindi andiamo al primo frame e poi premiamo ctrl e poi clicchiamo col tasto sinistro in cima all'alberello e vedete che abbiamo qui ci fa vedere effettivamente che stiamo mirando a questo ora per fare il tracking di questo alberello occorre si può fare in parecchi modi tutta c'è una letteratura molto tracking vuol dire più semplicemente inseguirlo e ce lo fa automaticamente blender semplicemente cliccando qua quindi facciamo questo vedete che sembra che abbia funzionato perché è ancora posizionato e se noi facciamo il giro vedete che man mano vedete che viene questa specie di vermino rosso e blu e quello vuol dire che lui l'ha tracciato perfettamente quindi siamo in una situazione buona adesso non sto a dirvi come correggerlo nel caso in cui non ce la faccia è un argomento che poi vedremo nella prossima puntata lezione adesso siamo contenti così se abbiamo un particolare che rimane abbastanza fisso per tutta la durata dei frame questo elemento va bene va molto bene quindi proviamo a usare quello allora una volta tracciato questa cosa dobbiamo però creare diciamo una specie di unificazione di questa scena che è virtuale è semplicemente una scena sul filmato nella nostra scena 3D per fare questo dobbiamo andare qui dove c'è ricostruzione e clicchiamo dove dice link empty to track questo cosa fa crea un oggetto vuoto eccolo questo oggetto vuoto che crea lo possiamo vedere direttamente nella nostra finestra 3D allora l'empty è questa croce qua e questa è la telecamera quindi adesso noi cancelliamo il nostro cubo e quello che succede se io faccio alt A vedete che l'empty che segue praticamente il pino si muove si muove nella nostra scena ora qui la letteratura vorrebbe lo chiamo che selezioniamo la telecamera la mettiamo quindi alt G quindi la mettiamo qui e alt R quindi la mettiamo nell'inizio proprio nel centro delle coordinate e poi magari la solleviamo un attimo vedete allora sollevate un attimo quindi a questo punto è messa in modo tale da guardare dall'alto quindi noi per avere la visuale della telecamera facciamo 0 vedete e poi facendo alta A vedete che c'è il pino che si sta muovendo ora noi non lo vediamo questo pino però noi sappiamo che quello sta tracciando il pino adesso per semplicità faremo una cosa per volta cioè attacchiamo proprio a quel empty quindi andiamo ctrl shift freccia in giù quindi nella prima cosa e poi andiamo qui selezioniamo l'empty e facciamo uno snap cursor to selected ok in modo tale che adesso lì shift A C costruiamo una eco una uv sphere ad esempio ecco questa qui è una uv sphere sphere questa uv sphere la rimpiccioliamo un po' perché è troppo grossa e la facciamo per esempio grossa così così questa sfera verrà sovrapposta al nostro albero ok ora cosa vuol dire questo come facciamo però a fare in modo tale che la sfera si muova insieme all'empty dobbiamo aggiungerci per esempio una constraint quindi gli aggiungiamo la constraint copy location e usiamo track track è praticamente il nome dell'empty quindi nel momento in cui abbiamo fatto in questo modo se facciamo alt a vedete che abbiamo il nostro la nostra sfarella che si muove e si muove esattamente poi vedremo la comporremo che diventa associata al nostro alberello ok qui si può anche vederla in modalità texturizzata che vedete che compare in questo modo diciamo alt gli mettiamo magari anche un materialino giusto perché appunto abbia una cosa un po' più naturale quindi gli mettiamo un diffuse e lo mettiamo un azzurrino e poi boh speculare mettiamo la specularità di questa cosa qua ok quindi lui si fa tutto il suo giro insieme al nostro insieme al nostro pino e a questo punto una volta che abbiamo unito queste cose passeremo diciamo alla fase 4 che è quella in cui vedremo di fare proprio il node editor che compone insieme le due immagini cioè quella del video che si muove quella che abbiamo visto prima con questa immagine che va e viene quindi andiamo in node editor ok eccoci nella quarta parte allora nella quarta parte noi entriamo nel node editor quindi come facciamo ad entrare nel node editor usiamo il compositing che è questo allora il compositing ci permette di lavorare sul rendering questa volta a lezione abbiamo visto come usare il node editor per il materiale adesso vediamo come usare il node editor per fare questa cosa importante cioè per usarla sul rendering quindi innanzitutto dobbiamo dire use nodes che è questo ok e poi diciamo ancora che facciamo usiamo il backdrop e vediamo un po' f12 cosa viene ecco vedete che avendo fatto f12 qui non si vedeva ma il default qual è? è di far vedere la composizione soltanto con la nostra con la nostra pallina azzurra ora il nostro obiettivo qua sarà invece quello di far vedere oltre alla pallina azzurra quindi qui magari facciamo alt freccia no contro freccia così abbiamo i nodi ben visibili perché adesso qui faremo un pochino di magia quindi cosa vuol dire? qui dobbiamo comporre la nostra la nostra pallina che si muove insieme al filmato e per farlo però facciamo una cosa aggiungiamo una cosa di utilità che si chiama viewer questo qua e quel viewer serve perché quello che c'è sul viewer viene può essere diciamo visualizzato in backdrop cioè praticamente questa immagine vedete che se io la metto qua vedete che mi fa vedere in sottofondo l'immagine corrispondente in grande quindi io posso capire se ho fatto giusto o sbagliato però prima di poter poi fare la composizione occorre poi rimettergliela anche di là sul composite altrimenti non riusciamo a fare il filmato ok allora adesso quindi prendiamo il filmato quindi facciamo add input prendiamo un movie clip questo e gli apriamo il filmato questo vedete che abbiamo preso prima una cosa che consigliano in molti è quella di normalizzare le dimensioni del filmato al rendering attuale quindi si prende altrimenti non si capisce bene quindi si prende un oggetto di scaratura scale che ho preso dal distort scale e su questo gli diciamo render size questo qui fa una normalizzazione in pratica se io attaccassi questo al viewer vedete questo l'attacco vedo la mia figura ok se gli metto invece vedete la scala questo qui l'ha allargata perché la scala adesso è appunto leggermente diversa quindi poi vedremo come modificarla però la rende omogenea altrimenti non è se non applicassimo una scala rischeremmo di non avere le proporzioni giuste dopodiché dobbiamo unire praticamente la nostra pallina ecco per vedere la pallina c'è un trucco se premiamo il nodo e facciamo ctrl shift e tasto sinistro vedete che lui fa vedere esattamente quel nodo quindi se io faccio ctrl shift e tasto sinistro qua mi fa vedere questo nodo che è la pallina e questo nodo che è il mio video l'obiettivo è quello di miscelare insieme questi due input e lo faccio introducendo un bellissimo nodo che si chiama mix che miscela ok la miscelazione magari la facciamo da qua ok allora il fatto che ci sia la miscelazione in questo momento ah no qui adesso c'è il mix a 1 quindi prende solo una delle due immagini e quindi dobbiamo mettere 0,5 ad esempio ok vedete che facendo in questo modo con 0,5 ha unito le due immagini però la modalità non è bella quindi facciamo magari invece che il mix facciamo l'add cioè che le somme tutte e due insieme ecco cioè il fatto che scurisce tutto questa cosa qua è dovuto al fatto che in realtà vedete che facciamo ctrl shift questo vedete che c'è la pallina ma è su sfondo grigio e questo grigio praticamente ci annebbia tutto il resto dobbiamo fare in modo tale che tutto lo sfondo invece di essere grigio sia nero quindi dobbiamo fare ctrl freccio in su andiamo qui nelle proprietà della nostra sfera del nostro blender e andiamo sul mondo e qui vedete che l'orizzonte qui è grigio e noi facciamo in modo tale che l'orizzonte sia bello nero perfetto allora nel momento in cui l'orizzonte è bello e nero e qui facciamo anche un f12 vedete che a questo punto diventa nero quindi torniamo nella nostra nella nostra cosa qui abbiamo detto che quello che vogliamo è questo quindi facciamo ctrl shift questo e vedete che a questo punto unendoli insieme si conserva abbastanza infatti questa è l'immagine originale e questa è l'immagine che è leggermente scurita ma si può comunque praticamente operare possiamo chiarirlo un pochino in modo tale da cercare di ottenere un effetto realistico quindi quello che abbiamo ottenuto adesso è come vedete proprio quello di aver fatto il nostro il nostro alberello che praticamente ha il suo oggetto che va lì però abbiamo detto prima ricordiamoci che per poterlo vedere dobbiamo prendere l'uscita di questo under quello che è miscelatore e metterlo nel composite allora solo così qua vedete il render result che è quello desiderato quindi a questo punto non so se si vedrà perché facendo alta qui non si vede ancora poi lo vedremo come vederlo magari le prossime volte comunque sappiate che adesso abbiamo fatto le cose giuste quindi quando noi farceremo il rendering quando noi faremo il rendering avremo il nostro ok un altro modo anche per essere un po' sicuri che stiamo facendo le cose giuste è quello di andare nella nostra visuale 3D in questa e da destra aggiungersi sottofondo il video e questo lo facciamo mettendo una background image dove però per background image noi aggiungiamo in realtà un movie clip e gli mettiamo il nostro questo e a questo punto vedete che abbiamo la sovrapposizione quindi possiamo vedere se è vero che ci segue quindi facciamo alta vedete che effettivamente che facendo con questo piccolo trucco vedete che riusciamo a vedere che però attenzione e quindi lo vedremo poi tra poco adesso noi dobbiamo però fare proprio il produrre il video finale in uscita questa diciamo è la nostra quinta parte quindi per fare la produzione del video dobbiamo andare qui dove qua sempre nell'impostazione abbiamo detto dunque risoluzione magari non questa ma andiamo a 720 ok perfetto facciamo vabbè 100 quindi vogliamo qui diciamo come vogliamo il video qui diciamo che questa volta invece di avere l'uscita come png la vogliamo come movie h264 e l'encoding scegliamo il dunque dovrebbe esserci mpeg4 eccolo qua così piccolo non lo vedevo comunque mpeg4 ok una volta fatto questo dobbiamo decidere dove mettere l'uscita quindi la mettiamo c sotto c blender camera tracking qua e la mettiamo la chiamiamo animazione finale ok quindi a questo punto se noi procediamo qua a cliccare su animation vedrete che verrà prodotto adesso qui si dovrebbe vedersi anche facciamo animation vedete che lui produce praticamente tutte le i frame e ce li fa anche vedere così noi vediamo cosa avviene in questo momento registrato nel filmato e questa anche è una cosa abbastanza lunghetta quindi ve la sul tutorial ve la risparmio e lo vedremo fra un attimo ecco quindi vedete che adesso abbiamo l'animazione finale qua entrando qua dentro abbiamo il nostro sono 5 secondi cliccando abbiamo vedete questa animazione che abbiamo ricostruito ex novo e che come vedete è abbastanza interessante e significativa ora per quanto riguarda il proseguimento questo è soltanto l'inizio del camera e object tracking e ve l'ho fatto in questo modo per farvi vedere come si fa a tracciare un solo punto in realtà quando si fa il camera tracking si tracciano moltissimi punti perché si dà proprio un'idea della prospettiva e si permette di fare delle cose molto molto più interessanti questa è diciamo fatta con un punto solo è una specie di animazione 1D cioè 2D anzi nel senso che si segue soltanto come se fosse una cartolina quindi è la cosa più semplice però gli stessi concetti sono applicabili anche quando poi si userà per il tracking 3D poi lì ci saranno altri concetti quindi è bene che voi abbiate le idee chiare sui concetti di questa lezione e con questo credo che sia tutto finito e ci sentiamo una prossima volta di questa